Sì, grazie Presidente. Con questa proposta andiamo ad apportare un'ulteriore modifica al regolamento che abbiamo approvato circa due anni fa. Si tratta di un cambiamento molto importante, è una battaglia che mi hanno raccontato le associazioni che in questi anni ho incontrato e con le quali si è lavorato insieme alla realizzazione del regolamento partecipato e riguarda in particolare l'utilizzo dei canoni di concessione che le associazioni pagano per l'utilizzo delle palestre scolastiche e in particolare l'impegno ad utilizzare questi proventi per la manutenzione delle palestre. È un tema, ecco, una battaglia che mi hanno detto essere ventennale, mi dicevano che non ce l'ha mai fatta nessuno, non ci riuscirete neanche voi, sebbene siano tutte le forze politiche d'accordo. Quindi io credo, ora mi vado già in là, penso che questo sia un tema condiviso. Ne abbiamo parlato in numerose sedute di commissione, recentemente anche in una commissione di città metropolitana, proprio per andare ad armonizzare le procedure che già sono utilizzate in città metropolitana. E quindi è un obiettivo molto significativo, molto importante, soprattutto perché con questo impegno, che poi nei fatti l'attuale amministrazione ha già ampiamente superato la spesa per investimenti e manutenzione ordinaria e straordinaria nelle palestre scolastiche, che è stata messa a bilancio a partire dal 2017 in poi, è già stata molto superiore a quelli che sono gli introiti da canone di concessione, che sono poco più di un milione di euro l'anno. Nell'ultimo anno sono stati investiti tre milioni e mezzo di euro per la manutenzione straordinaria delle palestre. Abbiamo ristrutturato oltre i centropalestre scolastiche in tre anni e mezzo. Però inserire un impegno del genere nel regolamento fa sì che questa, che è stata una battaglia di questa amministrazione, diventi la norma. E quindi l'utilizzo dei ricavi delle entrate da canone di concessione saranno, d'ora in poi, sempre utilizzate per la manutenzione delle palestre scolastiche. E questo darà la possibilità di raggiungere un ulteriore obiettivo, che è da sempre stato un obiettivo dell'attuale amministrazione, ovvero quello di avere a disposizione da parte dei dirigenti scolastici il maggior numero possibile di palestre. Come voi sapete, l'autonomia scolastica permette al dirigente scolastico di utilizzare la palestra per attività curricolari oppure metterla a disposizione dei municipi per le attività sportive che si svolgono nel pomeriggio. L'obiettivo è che tutte le palestre vengano messe a disposizione dei municipi e andare di fronte alle istituzioni scolastiche con l'impegno di avere finalmente cura di questi luoghi e quindi tutto ciò che entra nelle casse del comune non verrà più disperso nel bilancio generale ma sarà utilizzato ovviamente compatibilmente con tutti i vincoli di bilancio. Per la manutenzione delle palestre farà sì, a nostro avviso, che la messa a disposizione di questi spazi sarà sempre maggiore in futuro perché poi l'obiettivo di migliorare quanto più possibile questi luoghi naturalmente è condiviso, è un obiettivo dell'amministrazione che è proprietario delle strutture, è obiettivo delle scuole che quelle strutture le utilizzano e quindi ne beneficeranno naturalmente non solo gli utenti dei centri sportivi municipali che il pomeriggio e la sera oppure nel fine settimana anche durante il giorno utilizzano questi spazi ma anche i bambini che sono iscritti alle scuole durante l'ora di educazione fisica vanno appunto a fare attività dentro le palestre scolastiche. Ringrazio gli uffici per il supporto che hanno dato alla stesura dal punto di vista tecnico di questa modifica e ringrazio tutti per l'attenzione.